Incidente stradale sulla provinciale 31 Val di Chiampo con serie conseguenze per due tra gli occupanti di uno dei veicoli coinvolti, tre persone ricoverate in ospedale stamattina in ambulanza, due con codici di media gravità ma con necessità di accertamenti mirati dopo l'accesso al pronto soccorso, una conferite più lievi. L'esi, l'autista e collega presenti nella cabina di guida del mezzo di lavoro. Si tratta di un incidente tra un autocarro ad uso trasporto merci e una vettura privata Opel Corsa andati in collisione alle 10.25 di martedì mattina nel territorio comunale di Chiampese all'altezza di via Mazzocco di fronte alla Filippo Zimoto, urto violentissimo che ha visto i due mezzi scontrarsi all'altezza di un'intersezione con l'utilitaria a venire colpita dal muso dell'autocarro sul lato guida. Sul posto stamattina si è resa necessaria la presenza e il supporto dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Arsignano. I pompieri accorsi hanno subito messo in sicurezza i mezzi, estratto dall'auto il conducente rimasto incastrato riportando delle lesioni al pari dei due passeggeri che trasportava appunto.